La giustizia è gratificata da quello a cui oggi assistiamo. Il sottosegretario alla giustizia spiega che il livello di attenzione del Ministero rimane alto sulle infrastrutture. Le istituzioni poi non dimenticano chi ha servito lo Stato, proprio come l'appuntato del disciolto corpo degli agenti di custodia Antonio Lorusso, originario di Ruvo di Puglia, ucciso in un agguato mafioso a Palermo 51 anni fa, a cui è stata intitolata l'aula bunker del carcere di Trani, completamente ristrutturata a servizio ora dell'intero distretto da Bari a Foggia. C'è una continuità che è storica e che è anche delle persone, quindi la polizia penitenziaria viene dal disciolto corpo degli agenti di custodia e la custodia della memoria è fondamentale per noi ma per tutte le istituzioni. L'aula, ha detto il Presidente del Tribunale di Trani Antonio De Luce, dà dignità al lavoro di chi opera nella giustizia, anche agli imputati e ai detenuti, oltre che agli agenti in servizio, sempre pochi in Puglia. Prima della cerimonia il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha avuto un incontro richiesto dal SAP con i sindacati. Nel documento avevamo chiesto un direttore urgente per Taranto, un comandante per il carcere di Foggia, che ricordiamo ha avuto un'evasione di 73 detenuti due anni fa, e infine il discorso di mandare almeno un po' di personale, perché il personale di polizia penitenziaria di Puglia in questo momento non è in grado di fare le ferie.